Fabio D'Innocenzo, sei sgemellato questa sera qui in Assi d'Argente, come mai? Abbiamo fatto a botte, quindi... E siete menati, si dice. Siamo menati, sì. Senti, miglior soggetto, giusto, per America Latina? Come mai, secondo te? Credo perché... Credo che il film avesse grandissime potenzialità e... e il mio soggetto ci ricorda che forse il film non è venuto tanto bene. Quindi, miglior soggetto. Invece la serie come sta andando? Procede la scrittura, l'organizzazione? Siamo nella fase meravigliosa dei sopralluoghi. Ed è un lavoro molto complicato. Sono tre film in tre anni, abbiamo fatto, adesso facciamo questa lunghissima serie. Poi forse ci fermiamo, forse nessuno vorrà più produrci e ci fermeremo. Gioco forse. Perché dire così? Oggi ti sento un po' così, nostalgico. No, pessimista. Pessimista? No, realista. Senti, senza fare gossip, è un momento molto felice per te. Ti abbiamo visto su Instagram felice, in dolce compagnia. Dalla mia compagna Carlotta Gamba, che adesso è lì che si nasconde, ma... Sì, sì, in grande felicità, in grande felicità. Ok, in bocca al lupo auguri. Viva il lupo sempre. L'amore ci vuole, eh. Cosa? L'amore ci vuole. Eh, ammigadina, amore. Non a caso. Grazie, a presto. Grazie mille. Ciao. Riccardo Milani, di nuovo su Spettacolo Mania, come va? Bene, bene, grazie. Molto contento. Puri premiato per la commedia, ma è bravissimo a fare la commedia. Speriamo, sì. Cosa, a parte gli scherzi, insomma, cosa prova per questo premio? Felice? Ma, soddisfazione per tutti noi che ci abbiamo lavorato, per gli attori, per le attrici, per gli sceneggiatori, per la troupe, tutte le maestranze, fino all'ultima persona. Corro da te è cominciato nel 2019 e poi abbiamo incontrato il periodo che abbiamo incontrato, però abbiamo resistito, siamo usciti in sala e siamo molto contenti di questo. E' lo stesso con Gatto, Gatto è partito dal 2020 e anche lì abbiamo avuto un percorso difficile, complicato, però alla fine siamo usciti e siamo andati incontro al pubblico. La commedia ci vuole come il pane? Ci vogliono bei film, poi il genere con cui appartengano, questo è poco influente secondo me, il problema è che siamo bei film, la questione sia questa. E' da solo? Mi saluta Paola? Sì, Paola non c'è? Eh, lo so, non si nota. Tanto lavoro da fare, adesso c'è un progetto suo importante. Grazie mille, intanto buona serata. Grazie, grazie mille, grazie.